Buongiorno a tutti, purtroppo abbiamo avuto un sacco di segnalazioni circa comportamenti non corretti da parte di gente che cerca di speculare sul momento di difficoltà del nostro paese. Stesso venerdì c'è stato anche un importante uomo dello spettacolo, Fedez, che ha denunciato con forza un'associazione di consumatori che in maniera forse ingannevole invitava a sostenere la propria associazione a difesa delle battaglie sul coronavirus, ma quando poi si atterrava sul link messo per fare il finanziamento, per lasciare il contributo, non vi era più menzione della finalità per cui si stava versando, ma era esclusivamente un contributo finalizzato al sostentamento di questa specifica associazione di consumatori. è facilissimo andare a cercare in rete di cosa sto parlando. Ma questo è nulla, un nostro assiduo lettore del giornale di finanziamenti news, ma anche un nostro ascoltatore, non solo lui, ci ha segnalato in giornata quanto sta succedendo anche su alcune pagine Facebook. È nata una associazione cosiddetta senza scopo di lucro che cerca con una pubblicità ingannevole, adesso leggo qualche passaggio, praticamente fa leva sulla difficoltà del sistema imprenditoriale italiano, su quanti oggi sono veramente in ginocchio e asserisce di poter dare risposte concrete per poter rilasciare finanziamenti altro. Vi cito brevemente qualche passaggio. Innanzitutto su questa pagina Facebook loro, a qualsiasi tipo di richiesta, pagina, attenzione chiariamo, pagina sponsorizzata, a qualsiasi tipo di richiesta che arriva da qualsiasi soggetto potenzialmente interessato, loro rispondono che scriveranno in privato, quindi per cercare di avere un rapporto one to one con le persone. Ma soprattutto, vi leggo un passaggio e dicono, in risposta appunto a questo messaggio che aveva mandato un nostro ascoltatore e loro scrivono. Le scrivo in merito alla sua richiesta di informazioni su Facebook circa il decreto Cura Italia e le misure subito operative dal Mise per dare liquidità a fondo e fondo perduto alle imprese in difficoltà per l'emergenza Covid-19. Di seguito i vantaggi, messo bene in grassetto, dice fino a 1,5 milioni di euro, finanziamento a tasso agevolato per liquidità, ristrutturazione debito, acquisti, scorte e investimenti. Fondo perduto fino al 100% grazie all'accumulabilità con altre leggi statali e sulle spese per investimenti in beni strumentali, materiali immateriali. Ed ancora, il contributo erogato sotto forma di credito di imposto automatico da utilizzare in compensazione per pagare tasse, IVA, contributi IMSS personali ed i dipendenti. Ed ancora, dice zero, scritto in grande, bello evidenziato, zero garanzie personali, lo Stato fa da garante gratis. Ed ancora, zero documentazione richiesta, basta solo il numero di partita IVA, zero valutazione impresa, zero esame, zero tempi, zero rate capitale, primi 12 mesi sulla parte finanziata da restituire. Ed ancora, dice, zero valutazione di impresa, zero esame andamento aziendale, zero tempi di attesa prefattibilità, 100% online in 5 minuti, zero spese consulenze, gratis per tutti gli associati. Poi in grande, modalità richiesta e gestione del finanziamento, dice, gestione pratica 100% online, senza muoversi da casa o ufficio, con collegamento diretto alla piattaforma digitale delle istituzioni, senza doversi rivolgere alle banche. Verifica stato avanzamento pratica direttamente alla propria area riservata nella piattaforma dell'area istituzionale statale. Massima trasparenza e sicurezza. Ed ancora, dicono, non c'è bisogno di incontrarci fisicamente per analizzare la prefattibilità ed inoltrare la richiesta. Resta a casa. E poi, evidenziando, enfatizzando, dicono, è un'opportunità unica che non capiterà mai più. Le imprese stanno vivendo e vivranno, chissà ancora per quanto tempo, una dura crisi economica e finanziaria mai vista fino ad ora. Possiamo affermare che nei prossimi mesi assisteremo alla morte finanziaria, prestiti e fallimento di tanti imprenditori schiacciati dal peso dei costi fissi, quindi fanno un sano terrorismo. E poi, dopo che ti hanno terrorizzato, dicono, pertanto, le consigliamo di non farsi sfuggire questa bella evidenziata in grassetto, occasione irripetibile da sfruttare prima che sia troppo tardi. E poi ancora, dicono, che come può cogliere subito questa grande ed irripetibile opportunità? Basta iscriversi alla nostra associazione senza scopo di lucro. Non la cito perché non voglio fargli pubblicità facendo una piccola donazione di 37 euro e l'aiuteremo noi a superare il test di prefattibilità e ad inoltrare la richiesta. Tutte le donazioni che riceviamo vengono utilizzate per pagare la pubblicità su social e Google, grazie alla quale riusciamo ad informare, aiutare sempre più imprenditori, eccetera, 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 eccetera. Proprio come abbiamo fatto con te, dato che i fiscalisti, nelle banche, nelle camere di commercio lo fanno, cosa stai aspettando? Tantissimi imprenditori stanno cogliendo al volo questa grande opportunità di ottenere qualche debito, di ottenere liquidità e magari risanare qualche debito progresso così da sollevarsi e affrontare questo brutto momento. Ciò per noi è motivo di felicità perché stiamo facendo bene il nostro lavoro, ma per lei potrebbe significare perdere la sua occasione, perché ogni minuto che passa il numero di imprenditori che sfrutta l'occasione aumenta e il giorno di esaurimento dei fondi disponibili si avvicina. Dona ora 37 euro e ricevi aiuto. E citano il link su cui andare e pagare per effettuare la donazione di 37 euro, utilizzare le seguenti causali nel bonifico, donazione, associazione, eccetera eccetera, presidente eccetera, e mettere coordinate per il versamento. Appena fatto il bonifico, inviare a copia qui, poi ci sentiamo al telefono e così subito iniziamo a distruire il tutto. Ma questa è nulla, la cosa ancora più grave è che nel loro link dicono, con bel punto esclamativo in rosso, contattare solo se veramente bisognosi di aiuto immediato al fine di non arrecare danno ad altri che ne hanno veramente bisogno. Ragazzi, qui parliamo di sciacalli, persone che tendono ad approfittare di un momento di disgrazia, di disagio totale, di quanti stanno rischiando veramente di andare in difficoltà senza dare comunicazione sana, non aiutandoli veramente, ma cercando di spillargli 37 euro. Immaginiamo quanta gente con una campagna social su Facebook potrà rispondere, essere abbindolata da queste chiacchiere, da questi comportamenti da ciarlitani, moltiplicate se solo fossero solo mille persone, ma saranno sicuramente di più, mille per 37 persone, per 37 euro scusatemi, sono 37 mila euro che questi banditi si stanno portando a casa. Grazie per l'attenzione.